Musica Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa occhio ai giornali delle 7.30 del mattino Un cordiale saluto a tutti voi cari telespettatori che ci seguite con tanto affetto ogni giorno Ormai da una decina d'anni, cominciamo con la pagina del calendario e il santo di oggi Il santo di oggi, ve lo dico subito, è il Beato Giovanni Mazzucconi Passiamo adesso subito alle previsioni del tempo, eccole qua Avremo un cielo un po' congoloso questa mattina sulla fascia costiera Per addensamenti comuliformi sulle zone dell'entroterra Continua ancora però nel corso della giornata, continuano i rovesci temporali nelle zone dell'entroterra In particolare quelle meridionali Deboli invece occasionali piovaschi sulla fascia costiera Ma saranno brevi e soprattutto deboli Rispetto invece a quello che è successo ieri pomeriggio Quando abbiamo visto veri e propri scroscioni d'acqua Le temperature sono in aumento Per la giornata di domani, giovedì 8 settembre Il tempo migliora sulla costa, c'è ancora qualche residuo piovasco Temperature in aumento Venerdì 9, ancora pioggia Soprattutto brevi rovesci sul settore meridionale Nella mattinata invece tutto regolare Insomma con sole qualche nuvola qua e là Poi il tempo migliorerà Temperature sempre in aumento Miglioramento generale per il fine settimana e l'inizio della prossima Allora andiamo subito sul nostro sito internet Occhiononotizia.it Rapinatore muto punta il fucile contro la tabaccaia Prende i soldi e scappa Questa è la cronaca in apertura Su Occhiononotizia.it Sotto altre notizie Chiaramente quelle del giorno Ma vedete vorrei soffermarmi un attimo Sulla temperatura Che ieri era assolutamente Molto più bassa Rispetto a oggi Alle 7 e mezza Sono quasi 22 gradi Sembra strano ma è così Ieri erano 14-15 gradi Oggi invece siamo a 21 gradi Nonostante siano le 7 e mezzo del mattino E nonostante la pioggia E il cattivo tempo Allora la cronaca ci porta Ad una tragica fine Di una donna, una badante Che è stata ritrovata con una corda al collo Adesso bisognerà capire se si tratta di suicidio O di qualcos'altro I giornali ne parlano questa mattina Il resto del Carlino titola così Trovata morta con una cintura al collo La terribile fine di una badante polacca È successo a Macerata Feltria La donna aveva 51 anni Lavorava da pochi giorni nella casa di un'anziana Sono, dice la vicina di casa Sono tornata nella mia abitazione Ho visto la finestra della signora Lina spalancata Come non succedeva mai Poi è scoppiato il caos L'allarme è arrivato alle 18 e 30 Quando i carabinieri Il cadavere era ancora caldo Sono arrivati i carabinieri Il cadavere era ancora caldo Non ci sono segni di lotta Ma la badante ha il viso pieno di sangue Indagini comunque che sono a 360 gradi Per risolvere questo mistero Nessuno ha visto sconosciuti nella zona L'ipotesi dunque resta quello del suicidio E di questo parla anche il corriere adriatico Donna trovata morta in casa Con una cinta stretta al collo L'allarme è a Macerata Feltria La vittima è una badante dell'Est di 50 anni Sul posto fino a tarda notte i carabinieri Si sospetta un omicidio E queste sono le due pagine dei due quotidiani Su questa vicenda La pagina di Fano invece è dell'arresto del Carlino Il figlio sul seggiolino dell'auto Due chili di droga nel bagagliaio In manette un pusher di 29 anni Aveva cocaina, marijuana e anche soldi incontanti La donna stava attraversando la località di Bellocchi In direzione Fano è stata incastrata e anche riconosciuta Da un carabiniere Vedete nella fotografia tutto il materiale sequestrato Tutto il materiale rinvenuto a bordo di quest'auto Dove c'era questa donna di 29 anni Con a bordo il figlio detto Mentre nel tondo il capitano dei carabinieri Della compagnia carabinieri di Fano Alfonso Falcucci Conf Commercio sul caso Ocean Il fatto che verrà ampliato L'Ocean raddoppierà Solo noi abbiamo votato contro Dice Renzo Capecchi Presidente di Conf Commercio Decisione presa in regione In partenza altre zone commerciali Secondo il progetto Il nuovo blocco sarà di circa 9.000 metri quadrati Per l'aeroporto siamo alla svolta Premono anche società private Lunedì si nomina il nuovo amministratore delegato Parla Drudi Della Conf Commercio di Pesaro Che dice la pista O si faccia la pista in cemento Oppure lascio Dimissionaria è invece l'attuale responsabile Rita Benini Che dice avevo già detto che ero di passaggio Le soluzioni ci sono comunque tutte quante Lupo fa strage di Agnelli Me ne ha sgozzati 20 Questa è la fotografia che in questi giorni Vi stiamo facendo vedere Ieri siamo stati a Serrungarina A Pozzuolo Località Pozzuolo Dove sono stati uccisi 12 agnelli 8 sono stati feriti Ma che quindi dovranno essere abbattuti Abbiamo anche il Carlino questa mattina Mostra quelle che sono le carcasse Degli agnelli uccisi dai lupi Nell'azienda di proprietà di Michele Vitali Poi c'è anche la notizia che arriva da Cartoceto Lucrezia Ponte Murello Dove c'è stata una rapina ieri pomeriggio Alla tabaccheria azzurra Appunto di Ponte Murello Fucile da caccia Occhiali da sci E poi fuori i soldi Per la titolare Sono stati comunque attimi di terrore Anche se come avete visto dall'intervista Ieri sera insomma Se l'è presa tutto sommato abbastanza bene Con un po' di filosofia Senza eccedere nello spavento Era la quarta rapina Questa quella che subiva Quella di ieri è stata la quarta rapina Via Andiamo sulla pagina di Pesaro Del resto del Carlino Via all'anno pastorale E cambio di sacerdoti Don Zenaldo Lascerà l'abbadia di San Tommaso Don Levrini Santa Croce In queste immagini Il Carlino pubblica la foto Di Don Michele Rossini Don Marco Di Giorgio E Don Zenaldo del Vecchio Caritas Emilio Pietrelli Diventerà nuovo direttore Al posto di Don Marco Di Giorgio E questo E Questa è la notizia Che troverete sulla pagina di Pesaro Del resto del Carlino Adesso andiamo invece E apriamo la prima pagina Del Corriere Adriatico L'edizione di Pesaro Allora in apertura c'è la mediazione Stiamo parlando dell'ospedale unico Su Muraglia Decisive le offerte di Ceriscioli Vertice in settimana Poi la risposta Al sindaco di Fano Seri Che stasera sarà qui Negli studi di Fano TV Di Occhio alla Notizia Per primo cittadino Quindi se avete domande Da rivolgere al sindaco Potete già prepararle Inviarcele su Whatsapp Oppure sulla posta elettronica Dicevo L'applicazione porta nella stessa direzione Poi sotto invece L'addio alla piccola Marisol Il dolore dei genitori Dramma tendopoli Piove sul bagnato Il presidente della regione Dice le priorità sono adesso le scuole Ricostruire ricostruzione Poi in 3-4 anni Tutte le pagine interne Allora andiamo velocemente a vedere i titoli Mediazione per Muraglia Sul piatto per Fano C'è la clinica convenzionata Le opere varie Decisivo il vertice con Ceriscioli La trattativa riparte da dove si bloccò un anno fa L'applicazione della regione comunque conduce allo stesso sito Gli sfollati del terremoto sono 5.292 Quattro anni per la ricostruzione Ceriscioli illustra le priorità del post terremoto Contra la rovescia per l'apertura delle scuole Questa è la pagina in primo piano Su Pesaro invece la periferia cambia e parte dalle piazze L'assessore Belloni annuncia l'avvio di interventi nei quartieri Con un occhio anche alle scuole Si comincia con la riqualificazione dell'antico borgo di Candelara E del cuore di Villa San Martino E poi ancora la pagina di Pesaro e Provincia I migranti servono nuove strutture E caccia anche agli appartamenti Abitazioni già riperite a Montelabate e Campanare La prefettura chiama i sindaci C'è una vera e propria emergenza sui migranti Servono strutture L'emergenza continua con gli ultimi sbarchi Che hanno portato 175 richiedenti asilo politico a Pesaro Negli ultimi due giorni E poi ancora andiamo sulle pagine di Fano del Corriere Adriatico Una giovane mamma faceva il Corriere della droga Nell'auto con il figlio Aveva due chili Ne aveva due chili La donna è stata controllata da un mezzo civetta Sequestrati hashish, marijuana e cocaina Il compagno è noto per lo stesso reato Fruisce dei domiciliari perché ha due bambini Siringa con il sangue invece è stata trovata nei giardinetti a San Lazzaro Nel quartiere San Lazzaro Rischi per i frequentatori È l'ennesimo ritrovamento nelle aree pubbliche locali Zuccherificio, vittoria legale del comune di Fano Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso contro la sentenza del Tar Legittimo revocare la variante La società Madonna Ponte dovrà scendere dunque a patti L'assessore dice sì ad un accordo di programma Arriva l'ultimatum di Drudi Ora si profila la liquidazione L'Enac recuperi i soldi per la pista di cemento O ce ne andiamo dalla società Fano un fortuna Dice il presidente della Camera di Commercio di Peser Urbino Dopo le dimissioni dell'amministratrice C'è un grave stallo per la società di gestione A Bellocchi c'è aria pulita Nessun allarme Profil Glass La centralina non ha rilevato picchi negativi di PM10 Le polveri sottili a partire dal mese di maggio Il corpo politico delle donne Parole, immagini e musica Alla Sala Verdi c'è il cantante e intellettuale Godano Conversazione con Oriana Salvucci E canzoni per ribaltare gli stereotipi femminili La pagina di Valle del Cesano del Corriere Adriatico A Pergola arrivano 25 migranti Sale subito la tensione politica L'ex motel dichiarato parzialmente agibile Dalla maggioranza arriva una dura condanna Due mesi fa il Consiglio Comunale aveva detto No all'accoglienza per ragioni sociali Mentre da Mondolfo in soli tre mesi Barbieri il sindaco ha cancellato cinque anni L'ex assessore Lucchetti Censura il cambio di atteggiamento su alcuni temi Torna invece a Marotta il torneo dell'amicizia Nel fine settimana gare fra cinque squadre nazionali Di Oca in carrozzina elettrica Marotta a formazioni da Venezia Bolzano Ancona e Pescara Consigliera si dimette Siamo a Urciano Consigliera si dimette per entrare in giunta Stasera sarà surrogata dal giovane Scarlino Stessa procedura per la minoranza Da Senigallia la mensa scolastica stop ai frullati Nel menù largo al pesce fresco e vegano Nei nidi genitori sul piede di guerra Per i pannolini riciclati bocciati da 111 famiglie su 126 Poi c'è lo spettacolo pirotecnico Cambia il traffico Approvate le modifiche dopo l'apertura della Bretella Sud Quindi c'è questo spettacolo che inizierà alle 22.30 Oggi le modifiche riguarderanno i provvedimenti assunti In via provvisoria per questo spettacolo pirotecnico Quindi insomma adesso c'è brutto tempo Ma dovrebbe migliorare Speriamo che calmi anche un pochettino il vento Lo sdegno del parlamentare invece Siamo sempre a Senigallia Questione prostituzione Lo sdegno della parlamentare che abita vicino al palazzo Hot Escort della porta accanto Beatrice Brignone dura e dice Bisogna punire i clienti L'onorevole dice per legge Deve rispondere anche il proprietario Che affitta la casa Insomma nella città della spiaggia di Velluto È vietato esercitare il meretricio In un luogo pubblico Pena la multa di 50 euro In cui incappa la prostituta È inoltre vietato contrattare prestazioni sessuali In questo caso chi trasgredisce Quindi i clienti dell'esquillo Vengono sanzionati con una multa da 400 euro E sempre sulla pagina di Senigallia Maresciallo nel mirino dei ladri di biciclette Francesco Festinese Non li ho incrociati per colpa di una sigaretta Gli c'è tutto il racconto La rassegna stampa finisce qui Grazie per averci seguito Vi auguro buona giornata Ci vediamo stasera alle 20.30 con occhio alla notizia E poi subito dopo con Primo Cittadino Grazie per aver guardato il video